Eccoci di nuovo qui cari amici ed amiche di Speedy News bentornati ancora una volta con l'appuntamento con l'informazione ultima ora a reddito di cittadinanza arrivano i dati a un pallastop per oltre 112.000 occupabili cerchiamo di capire insieme appunto di che cosa si tratta ma prima mi raccomando iscrivetevi al mio canale se ancora non siete iscritti fatelo sempre comunque ricordandovi di cliccare sulla campanellina e poi lasciatemi una pioggia di super like grazie grazie a tutti per il sostegno ed il seguito come riporta il quotidiano il sole 24 ore arrivano i primi numeri veri sui percettori del reddito di cittadinanza cosiddetti occupabili che hanno terminato il sussidio dopo i sette mesi di frizione previsti dalla legge di bilancio per quest'anno e che ora attivando si potranno entrare nel nuovo strumento messo in campo dal governo e cioè il supporto alla formazione e al lavoro in partenza a settembre si tratta per l'esattezza di 112.545 persone di cui più della metà vale a dire oltre il 55 per cento quindi più di 62.000 persone sono dislocati in tre regioni del sud che sono sicilia in testa campania e calabria nel lazio ad aver terminato a luglio d'agosto il reddito di cittadinanza sono state 9.200 persone in puglia 8.000 scarse poi in piemonte circa 6.000 lombardia più o meno la stessa cosa circa 6.000 persone questi numeri sono stati comunicati dall'ampal subito dopo ferragosto alle singole regioni che ne avevano fatto richiesta degli oltre 112.000 soggetti che hanno terminato il reddito di cittadinanza una buona fetta vale a dire circa 70.000 persone in percentuali il 62 per cento risulta essere già stato preso in carico dai servizi per il lavoro con il nuovo programma di politica attiva gol che ha ricollocato sempre dati alla mano soltanto il 30 per cento dei disoccupati affronta l'argomento in maniera molto dettagliata il sole 24 ore del 18 agosto al quale vi rimando se volete ulteriori approfondimenti purtroppo il restante 38 per cento della platea di questi percettori che hanno perso il reddito di cittadinanza non ha ancora una presa in carico attiva ripeto soltanto il 62 per cento risulta già preso in carico dai servizi sociali quindi questi sono i dati che sono emersi i primi dati veri reali a quanto pare che la stessa ampal subito dopo ferragosto ha comunicato alle regioni e che ora noi di spindi news comunichiamo a voi per le giuste ed opportune informazioni sull'argomento io vi saluto vi ringrazio vi abbraccio tutti fortissimo vi aspetto qui con il prossimo video mi raccomando non mancate di seguirci di iscrivervi al canale con campanellina e di lasciarci un bel po di like e di abbonarvi al canale speedy news per sostenere quello che facciamo quotidianamente arrivederci a tutti da barbara